buongiorno a tutti bentornati al caffè siamo arrivati al capitolo 82 del novellino e qui conta come la damigella di scalot morì per amore di lanciallotto del lac siamo subito catapultati nel bellissimo e favoloso mondo del mito della mitologia medievale qui parliamo dei grandi cavalieri della tavola rotonda che vivevano alla corte di camelot circondati da quel grandissimo condottiero e valoroso uomo che si chiamava re artù artù pendragon famosissimo in tutto il mondo reso celebre grazie anche ad antichi manoscritti medievali tra cui per esempio la storia regum britannia di goffredo di monmouth del 1136 dopo cristo quindi siamo nel dodicesimo secolo però interessante perché in quella storia l'autore non nomina lanciallotto quindi questo personaggio che famosissimo che tutti noi conosciamo proprio perché viene citato anche da dante nella divina commedia nel quinto canto dell'inferno parlando di paolo e francesca non compare nella storia regum britannia di goffredo e viene presentato e poi reso famoso da un altro scrittore medievale stiamo parlando di chretien de troie il quale operò e iscrisse alla corte di maria di champagne sempre nel dodicesimo secolo dopo cristo famoso perché scritto moltissimi romanzi medievali tra cui eric e nid il cligès e le chevalier au lion le chevalier della charrette quindi il cavaliere del leone il cavaliere della carretta e ho anche intenzione di portare qui sul canale alcuni di questi romanzi medievali quindi faremo un po anche di filologia romanza di letteratura medievale nello specifico perché sono davvero delle storie molto molto belle che si collegano poi con tutti i percorsi che noi già stiamo facendo nel corso anche di letteratura italiana quindi davvero molto molto belli ed è in questi romanzi di chretien de troie dicevo che compare per la prima volta non solo l'ancillotto ma anche parsifal o perseval e tutte queste storie appartengono al ciclo bretone quindi si riferiscono a quelle storie mitologiche che appartengono al popolo celtico i celti furono un insieme di popoli indoeuropei tra le isole britanniche la bretagna fino poi al bacino del danubio stiamo parlando di un periodo che va tra il quinto e il terzo secolo avanti cristo così abbiamo anche un riferimento storico ben preciso quindi la materia bretone riguarda proprio le avventure di re Artù e dei cavalieri della tavola rotonda però è interessante perché nella primissima citazione di re Artù il protagonista cioè re Artù non viene mai nominato come re come sovrano ma viene nominato come dux bellorum quindi come comandante militare era un famosissimo e abilissimo condottiero il quale secondo la mitologia difese la sua terra dalle invasioni degli anglosassoni tra il quinto e il sesto secolo dopo cristo quindi siamo in quel periodo figura mitologica però ebbe un enorme successo appunto anche e soprattutto grazie all'istoria regum britannie di goffredo di monmouth nella nostra storia invece si parla di uno di questi personaggi in particolare appunto di l'ancillotto l'ans lo dulac probabilmente il nome significa l'ans aplot cioè l'ans figlio di lot oppure potrebbe addirittura derivare dall'ebraico e significare asilot cioè nobile e quindi l'ancillotto cioè l'asilot sarebbe il nobile quindi riferito a questo cavaliere sarebbe appunto questo il suo nome tutti noi lo conosciamo perché naturalmente si innamorò della regina ginevra è famosissima la sua storia insomma si innamora proprio della moglie del suo signore quindi siamo ancora una volta in un ambiente di corte e qui la storia viene citata perché appunto stiamo sempre parlando di un ambiente esclusivo perché esclude la maggioranza della popolazione è un mondo che tutti ammirano che tutti seguono da vicino tutti vogliono conoscere le storie i dissapori le beghe gli intrighi delle corti perché amano il mondo che non potranno mai raggiungere però tutti appunto ne sono davvero affascinati una figliuola ad uno grande varvasore si amò l'anciallotto del lac ecco qui proprio il termine originale l'ans lo dulac oltremisura è un altro topo stipico dell'amor cortese questo è proprio quell'amore esclusivo che non ammette un altro pretendente bisogna assolutamente che i due si amino amor canullo amato amar perdona l'amore che ama e non permette non consente all'altro di non riamare a sua volta non può tollerare che la persona ami qualcun altro ma egli non le voleva donare suo amore imperciò che egli l'avea donato alla reina ginevra è chiaro non può non può amarla perché l'anciallotto già ama la regina ginevra si crea sempre questa catena che genera però soltanto dolore e disperazione un'insoddisfazione così forte e che ora vedremo porterà questa donna alla morte tanto amò costei l'anciallotto che la ne venne alla morte arriva addirittura poi a morirne è un dolore così forte da essere insopportabile e non può più resistere e comandò che quando sua anima fosse partita dal corpo che fosse arredata una ricca navicella coperta ad un vermiglio sciamito quindi la sua navicella la sua piccola imbarcazione doveva essere tutta ricoperta e avvolta da questo sciamito vermiglio cioè da un drappo di seta pesante di colore rosso vermiglio quindi rosso intenso rosso acceso ecco ed era usato questo drappo anche per gli abiti lussuosi oppure per i paramenti quindi stiamo parlando di un tessuto davvero molto prezioso costoso e quindi riservato soltanto a pochi con un ricco letto ivi entro con ricche nobili coverture di seta ornato di ricche pietre preziose quindi deve essere tutto ricoperto da questi drappi da queste coperte di seta e di pietre preziose di nuovo l'ambiente di corte e fosse il suo corpo messo in questo letto vestita di suoi più nobili vestimenti e con bella corona in capo ricca di molto oro di molte pietre preziose e con ricca cintura e borsa quindi deve essere addornata in tutti i modi e soprattutto nulla deve essere lasciato al caso deve essere ben disposta e ben messa proprio per essere poi ammirata e vista da tutti e in quella borsa avea una lettera che era dello infrascritto tenore comandò che fosse messa appunto una lettera e diceva quanto segue che era di questo tenore appunto c'era scritto quanto segue ma in prima diciamo di ciò che va innanzi la lettera però prima di dirti ciò che c'era scritto diciamo cos'era successo a questa donna cos'era successo prima cioè che fosse scritta la lettera quindi sentite qui la narrazione viene interrotta perché la voce narrante deve assolutamente dirci qualcos'altro la damigella morì di mal d'amore eccola qua la parola chiave di mal d'amore un amore che conduce alla morte alla sofferenza alla disperazione perché è un amore esclusivo esclude tutto non ammette nessun tipo di compromesso ottengo quella persona oppure posso anche morire perché la mia vita senza di lei non vale assolutamente nulla non vale la pena ad essere vissuta cioè è un amore totalizzante e voi potete capire quanto questo tipo di amore fosse da un lato amato e apprezzato proprio perché dava la possibilità di abbattere proprio quelle barriere sociali le etichette quindi di infrangere le regole di un mondo asfissiante di un mondo che non ammetteva questo tipo di libertà perché tutto doveva essere fatto secondo le regole le consuetudini dell'epoca però dall'altro lato appunto è un amore che viene condannato dalla società non può essere ammesso un simile atteggiamento un simile comportamento perché significa violare le regole e quindi generare il caos e fu fatto di lei ciò che disse e quindi tutto venne fatto secondo le sue disposizioni la navicella senza vele cioè senza le vele fu messa in mare con la donna il mare la guida a camalot ovviamente giunge a camalot appunto dove cioè stava la corte di re artù è proprio il regno di artù e ristette alla riva questa barca si ferma sulla riva quindi sembra quasi portata da un incantesimo il grido andò per la corte cioè la voce si sparse per tutta la corte i cavalieri i baroni dismontarono dai palazzi cioè scesero giù dai palazzi tutti vanno a sentire e vanno a vedere che cosa sia successo e lo nobile re artù vi venne e maravigliava si forte che era senza niuna guida e tutti si stupiscono c'è perfino re artù quindi compare anche lui tutti sono stupiti e sbalorditi perché non ci sono guidatori non ci sono traghettatori è arrivata da sola ed è arrivata proprio a destinazione sembra quasi un segno divino il re entro dentro vide la damigella e l'arnese e vide cioè tutto quello che c'è l'equipaggiamento le suppellette le coperte i drappi e così via fe aprire la borsa e poi fa aprire la borsa trovare quella lettera fece la leggere sentite di nuovo la dinamis del novellino è molto rapido molto veloce e dicea così e adesso la storia si chiude con le ultime parole quindi con la confessione finale proprio della donna a tutti i cavalieri della tavola ritonda manda salute questa da migella di scalot siccome alla migliore gente del mondo loro sono i migliori cioè sono i più nobili i più valorosi coloro che rispettano il codice cavalleresco e che difendono la loro terra la loro patria e se voi volete sapere per chi io a mia fine sono venuta si è per lo migliore cavaliere del mondo e per lo più villano quindi è colpa del cavaliere migliore del mondo ma anche per il più villano cioè per il più crudele crudele perché non ha saputo e non ha voluto amarla cioè monsignore messere lanciallotto di lac e quindi lo nomina e in questo modo lo vuole svergognare davanti a tutta la corte che già non seppi tanto pregare d'amore che li avesse di me mercede non sono riuscita cioè pregarlo così forte così intensamente a tal punto da averne alla fine mercede cioè averne pietà avere cioè la possibilità di ricevere il suo amore di essere ricambiata di avere pietà di me e così lassa disperata distrutta battuta sono morta per ben amare come voi potete vedere sono morta per il ben amare interessante perché questa parola cozza e contrasta in maniera netta con il mal d'amore di prima io ho bene amato ho amato bene ma sono morta per il mal d'amore come voi potete vedere e qui si chiude la storia quindi sembra proprio una scena teatrale tutto è stato disposto secondo le sue ultime volontà perché tutti dovevano vederla e trovarla in quello stato si è preparata si è ghindata di tutto punto si è vestita in maniera impeccabile proprio per essere ricevuta alla corte di artusto sembra quasi un'udienza quasi avesse voluto parlare a tutti i costi davanti alla corte riunita proprio per esprimere il suo pensiero quindi è un amore che si viene celebrato viene osannato da tutti i poeti in tutti i modi in tutte le poesie che noi conosciamo e che presto faremo in letteratura medievale però purtroppo è un amore che non ammette nessun tipo di compromesso interessante se non ci avete fatto caso che in questa storia non sia un uomo il protagonista un poeta un cavaliere bensì una donna e qui viene ribaltato il classico schema viene davvero stravolto l'atto di sottomissione dell'uomo alla sua domina la sua amata ovviamente questo tipo di amore ricalca alla perfezione quel rapporto vassallatico che esisteva tra il dominus e il suo vassallo però di solito il vassallo è l'uomo e la domina e la donna qui invece il contrario è lei che si è innamorata di lui quindi io qui ci vedo anche una valorizzazione della figura femminile interessante perché anche nel novellino viene dato un maggior risalto alla figura femminile la stessa cosa poi farà anche boccaccio nel decameron si rivolge soprattutto ad un pubblico femminile ed è rivolto a un pubblico speciale le donne sono loro le vere protagoniste dell'altra raccolta che riprenderemo molto presto qui sul canale io spero che anche questa storia vi sia piaciuta ovviamente di amor cortese parleremo molto presto perché poi analizzeremo nel dettaglio anche la storia di tristano e isotta per esempio leggeremo per intero alcuni romanzi di cretienne detroit soprattutto le chevalier della charrette e come sempre io vi do appuntamento alla prossima lezione buona giornata a tutti